Venite da dove? Ah, da Belluno. In Veneto. Il Covid non vi ha fermato? No, è più forte la voglia di muoversi, viaggiare e guardare bene, diciamo, delle novità e comunque... Beh sì, certo, comunque tutte le attenzioni le abbiamo avute, ci siamo vaccinati, adesso siamo qua con le mascherine, quindi insomma ci comportiamo in modo responsabile, però allo stesso tempo non rinunciamo a viaggiare. Qualcuno c'è, forse si sveglieranno fra un po' perché stanotte hanno festeggiato, hanno bombeggiato più che altro, qui c'era una marea di tappi, champagne e via. Vanno prese le precauzioni ma non va fermato e non bisogna avere paura comunque di vivere bene. Bisogna anche vivere. Certo, sì, 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 noi siamo venuti qua a fare una gita con amici e stiamo attenti. Mi piace la città? Molto, molto bella. Grazie. Il Covid non ha fermato, insomma. Ma la gente il Covid si è rotta le scatole, io la vedo alla mia maniera, poi ognuno la vede alla sua, capito? Finirà tutto, lo sai quando? Il 10, dopo quando c'è Biden, siamo apputi che si incontrano, parlano loro, finisce tutto, ha scommesso. Tradico alla mia, da Pisano, ricorda.